Tra poco, sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale. A Fanno Sindaco Seri presenta un piano strategico per condividere con i privati gli obiettivi della città, mentre a Pesaro Ricci inizia un tour nei quartieri per fare il punto su problemi e necessità. Termineranno a primavera i lavori per la nuova uscita di sicurezza alla Rocca Malatestiana. Il monumento diventerà un contenitore di eventi e potrà ospitare fino a 800 persone. Cucurano, minori stranieri ospiti a Casa Lucia. Domenica l'inaugurazione della struttura di accoglienza. Continua il viaggio di Fanno TV alla scoperta dei nuovi giganti di cartapesta. Domani il pupo del carnevale e il selfie si presenta alla città. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'iniziativa che è stata presentata questa mattina dalla sindaco di Fanno Massimo Seri che permetterà ai cittadini di proporre idee per migliorare la città. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Si chiama Orizzonte Fanno ed è il nome del piano strategico comunale che darà il via ad un percorso partecipato con la cittadinanza. L'obiettivo sarà quello di realizzare entro fine anno un documento programmatico di sviluppo da oggi al 2030 con progetti che siano in grado di rendere migliore la città. Il sindaco Seri questa mattina ha presentato l'iniziativa e l'immagine scelta. Il sole che sorge dal mare, simbolo di un nuovo inizio per la città della fortuna che vuole guardare avanti. Sindaco, qual è la vostra sfida? Beh, la sfida è quella di pensare in grande, di pensare a progetti di medio e lungo termine. La differenza tra un buon amministratore e un pessimo amministratore è proprio questa. C'è chi guarda soltanto all'imminente magari per cercare un minimo di consenso e chi invece cerca di creare le basi per delle progettualità che guardino a un orizzonte più lontano. Per non sbagliare le scelte ma soprattutto la sfida è quella di avere una strategia, un progetto complessivo della città che verrà. Quali temi verranno affrontati? È un progetto a 360 gradi? È un progetto a 360 gradi, ad esempio noi rimettiamo mano al piano regolatore, è già partito un percorso, piano strategico è utile anche per questo. Portiamo tutti un contributo positivo per migliorare Fano, per vincere le sfide del futuro. Ecco, proprio per questo ha citato una frase di Kennedy. Sì, allora in un suo noto discorso disse agli americani non chiedete cosa l'America può fare per voi ma cosa voi potete fare per l'America e allora proviamo con questo piano strategico, con questi incontri che sono come dicevo un'opportunità, proviamo a pensare non cosa Fano può fare per noi ma cosa noi possiamo fare per Fano in base alle nostre competenze, alle nostre idee, alle nostre capacità. Nel progetto verranno coinvolte scuole, università, associazioni, forze politiche e tutti gli ambienti economici e imprenditoriali. Per la stampa sono state organizzate diverse conferenze. Mercoledì prossimo si parlerà di dati demografici. Lunedì 13 di economia e lavoro, il 20 di patrimonio edilizio mentre il 27 febbraio di benessere che offre la città. Il 4 marzo invece in programma dalle 9 alle 13 alla Mediateca Montanari un appuntamento definito unico per i cittadini intitolato Lost Open Space Technology Foro Urbano. Durante l'iniziativa che nel nome richiama le radici romane e l'idea di piazza, di mercato delle idee i cittadini avranno l'occasione di confrontarsi, condividere idee, dare suggerimenti e progettare insieme il futuro della città. Abbiamo attivato già da oggi un sito orizzontefano.it che dà già dei contenuti e spiega cos'è il piano strategico e che cos'è l'host, questo foro urbano che attiveremo il 4 marzo e ci sarà soprattutto la forma per iscriversi a questo evento partecipativo che dà il via a tutto il percorso. Inoltre ci sarà anche una pagina Facebook orizzontefano, stesso nome dove chiunque può documentarsi ma anche intervenire, fare proposte e discutere di temi che man mano proponiamo. A Piesore invece parte il tour dei quartieri del sindaco Matteo Ricci la prima tappa sarà a Muraglia-Montegranaro martedì 7 febbraio una nuova formula rispetto allo scorso anno quando il confronto avvenne nelle assemblee serali questa volta il sindaco con membri della giunta sarà nel quartiere di turno per una giornata intera con visite e incontri nei centri d'aggregazione nelle attività commerciali, nelle scuole i quartieri, ha detto Ricci, ci aiutano su pulizia, decoro, vivacità e manutenzioni con loro faremo il punto su quello che si è fatto e che si farà ma anche su problemi e necessità il sindaco conta di mettere in fila due quartieri a settimana e adesso torniamo a Fano perché sono quasi terminati i lavori alla Rocca Mala Testiana per la nuova uscita di sicurezza l'intervento permetterà di organizzare eventi per 800 persone sorgerà l'estremità nord orientale dell'antica cinta muraria di Fano la Rocca Mala Testiana un monumento simbolo della città che nel giro di pochi mesi potrà diventare uno dei più importanti contenitori di spettacoli ed eventi infatti a breve termineranno i lavori per le due nuove uscite di sicurezza diventate ormai obbligatori per legge l'intervento di sistemazione ha un costo di circa 250.000 euro e permetterà di aumentare la fruibilità interna da 90 a 800 persone andando a intervenire su un bene importante, tutelato ovviamente ci sono stati dei piccoli ritardi ma entro primavera i lavori finiranno la scala è già stata posta esternamente, si può vedere finiranno anche i lavori all'interno per quanto riguarda il sollevatore che dovrà portare al primo piano dell'edificio che è all'interno della Rocca e quindi stanno andando molto bene finiranno entro la primavera in più abbiamo già finanziato altri 130.000 euro per permettere prima di tutto di sistemare la situazione degli impianti nella sala di sopra per farne anche una sala più accogliente per manifestazioni, seminari, mostre e quindi impianti tecnologici e dunque il condizionamento, il raffrescamento e il riscaldamento e poi abbiamo previsto anche l'allaccio alle fogne che non c'era purtroppo perché avendo il progetto in programma di renderla sempre più funzionale abbiamo necessità anche di questo tipo di allaccio che fino adesso non c'era e abbiamo previsto anche il consolidamento della Rocchetta quindi il consolidamento della parte della Rocca verso nord verso quindi il porto canale e con il consolidamento della Rocchetta che anche esteticamente si può vedere diciamo del tutto in sicurezza però in prospettiva ci potrebbe dare dei problemi quindi sicuramente restituiremo la città non solo un monumento restaurato, consolidato con l'allaccio alle fogne ma anche un bel ambiente per fare qualsiasi tipo di cosa sia all'aperto e in forma ridotta ovviamente al chiuso E una critica alla giunta regionale arriva dal consigliere Mirko Carloni che oggi ha fatto un bilancio delle sue attività dal 2015 ad oggi Dal sisma all'indagine di Banca Marche dalla sanità ai problemi scolastici sono diversi i temi in cui è intervenuto e sui quali si è abbattuto il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni in questi ultimi anni di attività politica Carloni questa mattina ha fatto un bilancio consuntivo nella nuova sede di via Palazzo a Fano un luogo dove nei prossimi mesi il consigliere avrà la possibilità di incontrare i cittadini Volevo però fare il punto in modo particolare sulle cose che sono avvenute le più drammatiche, quelle del terremoto in cui abbiamo visto un'assoluta inadeguatezza della giunta regionale che addirittura da agosto non è riuscito a montare nemmeno le stalle per salvare gli animali a coloro che erano rimasti sul territorio che sono gli allevatori dando poi la colpa agli allevatori stessi ieri c'è dimesso il segretario generale della giunta quindi in qualche modo è la dimostrazione di un fallimento di questi due anni da parte di chi amministra la regione e anche di una certa insipienza per esempio sul caso del Battisti dove hanno disatteso la delibera della commissione dove chiedeva di reinserire la dirigenza per i Battisti e in modo particolare l'ERSU che è una riforma nata male con 3-4 proposte che venivano dalla stessa maggioranza che non la vogliono né gli studenti né i dipendenti dell'ERSU né soprattutto il rettore e diciamo così il sistema docente in questo caso la regione vuole andare avanti senza ascoltare chi poi quella riforma la deve attuare su Fano invece in modo particolare c'è una disattenzione cronica un ritardo nei rapporti e in qualche modo mi accorgo che Fano rispetto ad altre città sta perdendo sempre pezzi quella dei Battisti è una ma ce ne sono talmente tante che comincia a essere preoccupante questa escalation diciamo di dimenticanza di questa città e di perdita di strategicità rispetto ai rapporti con la provincia e con la regione per Carloni la giunta regionale dovrebbe essere più consapevole di ciò che accade altrimenti rischierà di prendere provvedimenti diversi dalle esigenze reali e dunque sbagliati poi la politica può in qualche modo capire qual è la strategia ecco anche sul sistema delle banche dopo quello che è successo con Banca e Marche ci si rende conto che manca una visione strategica di che qual è il progetto per questo territorio regionale rispetto ad altre regioni su che cosa investire si parla ad esempio da due anni di questa amministrazione e quella precedente di una legge regionale sull'urbanistica che ancora non è avvenuta e quindi abbiamo una legge ferma da 30 anni che in qualche modo rallenta la possibilità di investire di riqualificare perché no anche di rendere sicuri gli edifici e soprattutto quello che è evidente che questa giunta in modo particolare il presidente ma soprattutto il vicepresidente Casini sono veramente hanno una totale mancanza di strategia rispetto ai bisogni dei marchigiani andiamo avanti con una notizia di cronaca è finita in ospedale una quarantenne di Senigallia che picchiata dal marito a calci e pugni con un bastone che si è spezzato per la violenza di colpi è scappata di casa con uno dei figli minorenne prima di riuscire a chiamare la polizia l'episodio è avvenuto nel centro storico della città in ospedale dove alla vittima sono state diagnosticate lesioni e contusioni in diverse parti del corpo è arrivato poco dopo anche il marito visibilmente agitato l'uomo è stato bloccato dai poliziotti prima che potesse raggiungere la donna data la possibilità che potesse verificarsi ancora un'aggressione gli è stato vietato di avvicinarsi all'abitazione della moglie e ai luoghi da lei frequentati adesso torniamo a parlare invece dell'aeroporto di Fano perché dopo la volontà espressa dalla Camera di Commercio di vendere le quote il Movimento 5 Stelle di Fano chiede una commissione di indagine sentite chiederemo in Consiglio Comunale è la composizione di una commissione di indagine per la questione dell'aeroporto e della sua gestione questo perché ci sono tre motivi molto importanti che ci spingono a fare questo il primo è che bisogna chiarire assolutamente qual è il rapporto tra le associazioni e gli enti privati che lavorano all'interno dell'aeroporto e la società Fano un fortuna invece che è completamente capitale pubblico e gestita dal comune e da altri soci pubblici il secondo motivo è importante anche perché abbiamo visto attraverso un accesso agli atti che ci sono delle spese non giustificabili a volte addirittura esorbitanti rispetto al giro di affari che la società aeroportuale fa un fortuna e ha ricordiamo che negli ultimi tre anni questa società ha avuto dei passivi molto importanti e il terzo motivo è il fatto che fino ad oggi della questione si è occupata solo la commissione di garanzia e controllo e bene che invece ci sia un'altra commissione di indagini che noi chiederemo che ha poteri anche maggiori rispetto a quella di garanzia e controllo anche perché quest'ultima deve occuparsi anche di altri argomenti molto importanti come ad esempio la questione della fusione ASET che ha degli aspetti ancora da chiarire soprattutto per quanto riguarda i suoi meccanismi di fusione e anche per i benefici che eventualmente dovrà portare e una scossa di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle ore 5 tra Marche e Umbria secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 6 km di profondità ed epicentro a 2 km da Monte Cavallo in provincia di Macerata e 13 da Precci in provincia di Perugia la scossa è stata preceduta e seguita da altre due di magnitudo 3 alle 4.32 alle ore 4.54 al momento non si hanno segnalazioni di nuovi crolli la protezione civile delle Marche invece ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse dalla mezzanotte di sabato fino alle 6 di domenica per vento forte previste raffiche fino a burrasca forte o tempesta che saranno più frequenti sulle zone appenniniche e alto collinari occasionali invece sulla fascia collinare in previsione delle piogge nei prossimi mesi verrà eseguito un vasto piano di pulizia delle caditoie messo appunto dall'Aset Spa in tutto il territorio comunale di Fano i prossimi interventi già programmati saranno in via Quinta Strada via Del Carmine via Brigata Sassari via De Condotti via Papiria dal Civico 56 al Civico 95 via De Lecci via San Lazzaro via Giovanni Pascoli Parini Beccaria Nuvolari via Petri e via Meazza verrà inaugurata domenica cucurano di Fano la comunità Casa Lucia una struttura dedicata all'accoglienza di minori stranieri provengono dal Gambia Ghana Kosovo e Albania i 13 minorenni stranieri non accompagnati che dallo scorso ottobre alloggiano a Casa Lucia la nuova comunità situata a Cucurano di Fano gestita dalla cooperativa sociale Utopia grazie al contributo dell'associazione Luttikau la struttura che sarà inaugurata ufficialmente domenica 5 febbraio alle 15.30 servirà per fronteggiare l'emergenza del numero crescente di giovani stranieri presenti sul nostro territorio Solitamente sono ragazzi che scappano da condizioni di povertà oppure da guerre da situazioni davvero difficoltose e vengono a trovare tra virgolette fortuna nel nostro paese la finalità è quella di avere una casa con tanti fratelli e noi in qualche modo siamo le persone che fungono da riferimento oltre che normativo ma anche familiare quindi in qualche modo ci sostituiamo alle loro figure che mancano perché la mancanza e l'assenza dei loro affetti e dei loro cari dopo un po' di tempo inizia a manifestarsi in loro a Ponte Sasso ci sono polemiche per una possibile sistemazione di profughi minorenni invece la comunità di Cucurano come ha risposto? Abbiamo dei rapporti di buon vicinato anche con i vicini faccio degli esempi a pulizia del condominio oppure la strada il rispetto delle persone comunque che convivono con noi nella nostra zona e questo tipo di problemi non li abbiamo incontrati Oltre ai corsi di alfabetizzazione Casa Lucia propone i suoi ospiti dei percorsi di formazione professionale all'istituto Alessandro Volta di Fano inoltre nella struttura di Cucurano potranno rimanere fino al compimento del diciottesimo anno di età ma i professionisti della cooperativa li seguiranno anche in un secondo momento sia per la conversione del permesso di soggiorno e quindi per essere regolari sul territorio sia per aiutarli a trovare un lavoro Eccoli qua ragazzi Francesco e loro nomi? Allora noi abbiamo Claydon Gentian Blerim e Iaia i primi due vengono dall'Albania Blerim Kosovaro e Iaia dal Gambia da molto lontano chiaramente le loro storie i loro percorsi sono i più diversi e anche le loro aspirazioni ognuno sta seguendo un percorso di formazione professionale con le più diverse possibilità quindi operatore meccanico Blerim operatore elettrico Claydon Gentian vorrebbe fare il parrucchiere ad esempio e anche Iaia sta seguendo un percorso per fare l'elettricista Iaia ha impiegato più di un anno per arrivare in Italia il diciassettenne ci ha raccontato che è nel territorio nazionale da circa sei mesi e che sta affrontando non poche difficoltà per imparare la nostra lingua Padre mio tu vai fuori adesso anche padre mio è morto adesso non c'è casa più in Gambia madre adesso in una comunità da Gambia vivo adesso con mia sorella riesci a comunicare con loro sì io per comunicare con mia madre che cosa fate durante il pomeriggio quali sono le vostre attività ma svegliamo la mattina andiamo a scuola perché io vado anche a Fano ce l'ho anche scuola per lingue italiane giochiamo ce l'abbiamo più station ce l'abbiamo il biliardino tante cose vorresti raggiungerle invece più avanti quali sono le tue ambizioni vuoi rimanere qua sì in Italia quasi e passerà nuovamente nel centro storico di Fano la seconda edizione della marcia della pace organizzata dall'azione cattolica diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola l'evento in programma per domani pomeriggio prenderà il via alle ore 15 dalla basilica di San Paterniano per poi dirigersi attraverso il corso cittadino e terminare nell'aulamagna del liceo scientifico statale Giacomo Torelli oltre al Vescovo Trasarti che guiderà il momento di preghiera introduttivo sarà presente anche il sindaco Massimo Seri il pensiero sarà rivolto a tematiche di sostegno di integrazione e continua il nostro tour all'interno dei capannoni dell'ente carnevalesca alla scoperta dei giganti di carta pesta che dalla domenica da domenica 12 febbraio sfileranno lungo via Le Gramsci Lino Balestra alle nostre spalle un altro carro tutto nuovo di Zeca sta prendendo forma il suo creatore Deus Ex Machina Ruben Mariotti allora quest'anno hai potuto finalmente tirar fuori un bel prodotto è vero finalmente abbiamo potuto tirar fuori un progetto nuovo e questo ci ha motivato ci ha spinto molto abbiamo il mio carro in modo particolare è un carro di satira politica quindi abbiamo avuto qualche piccolo problema all'inizio con Renzi che non sapevamo il referendum non referendum si dimette non si dimette e quindi abbiamo dovuto correggere qualche cosa strada facendo però finalmente siamo riusciti a trovare il canale giusto lo abbiamo mandato in vacanza e quindi il mio carro si intitola Vacanze Renziane Grand Prix Italia perché come sapete il tema di quest'anno è appunto Made in Italy abbiamo voluto riportare tutta la questione all'interno della politica italiana e quindi è una crisi all'italiana crisi all'italiana alle nostre spalle vediamo un'automobilina di Formula 1 che incombe quali sono gli elementi distintivi su cosa hai lavorato allora ho lavorato principalmente sui rappresentanti politici che sono adesso nell'occhio del tifone in modo particolare ho cercato di rappresentare il leader della Lega e del 5 Stelle in quel caso Di Maio e poi naturalmente ho fatto anche Renzi e la sua bella compagna la Maria Elena Boschi che con una splendida macchinina Ferrari tutta rossa fiammante incomincia il suo viaggio di vacanze perché lui per adesso andrà un pochino in vacanza bene e svetta in tutta la sua maestrosità alle nostre spalle veramente è molto alto beh poi c'è un altro elemento che dovrà andare sopra quel podio quello che vedete rappresentato è diciamo il podio della Formula 1 dove poi si eleverà l'Italia con le sue caratteristiche forme bene allora i politici Renzi e le loro vacanze italiane saranno protagonisti sul corso mascherato di questo carnevale 2016 e certo speriamo che il tempo ci permetta di fare una bella sfilata e comunque noi ci crediamo fermamente e ci mettiamo tutto il nostro la nostra passione nel nostro cuore e a proposito di cari domani pomeriggio i cittadini avranno la possibilità di ammirare in anteprima e il selfie il pupo dell'edizione 2017 del carnevale di Fano realizzato dal maestro carrista Giovanni Sorcinelli l'appuntamento è fissato per le 16.30 a Borgo Cavour dove il pupo si presenterà alla città saranno presenti le autorità dall'ente carnevalesca dalla musica arabita da alcune mascherate una delegazione del carnevale di Rastat città tedesca gemellata con Fano il corteo sfilerà lungo corso Matteotti fino ad arrivare in piazza 20 settembre dove il pupo si fermerà mentre il resto del gruppo proseguirà fino alla fine del corso accompagnato anche dall'attore Filippo Tranquilli sull'evento Fano TV realizzerà uno speciale poi trasmetteremo nei prossimi giorni domenica 5 febbraio alle ore 9 il club Super Marathon Italia organizza la prima Super Marathon che si correrà a Fano sul circuito ciclistico Marconi l'evento è aperto a tutti i maggiorenni regola con la certificazione sanitaria che attesti l'idoneità sportiva agonistica all'atletica leggera iscritti alla FIDAL o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o in possesso di Rancard per completare la maratona occorrono 18 giri e circa 1300 metri inoltre sono previste una mezza maratona e una 10 km all'ex chiesa di Sant'Arcangelo è previsto per le 18 uno spettacolo teatrale intitolato semplicemente vivere per la regia di Marco Florio si tratta di un evento tratto dal libro di Michela Napolitano 20 notti per un'alba organizzato dal centro di aiuto alla vita di Fano in occasione del decennale della ONLUS l'associazione di volontariato offre nella città di Fano un servizio di vicinanza e sostegno alle donne di padri ai padri alle coppie o alle famiglie in difficoltà per una gravidanza inattesa per raccontare la sua storia e le vite incontrate il centro ha editato un piccolo libro di testimonianze che offrirà a tutti i partecipanti che interverranno all'iniziativa Amarotta invece è in programma un corso gratuito di autodifesa personale ad organizzarlo nella palestra all'interno della scuola media FA di Bruno in via Fantini l'associazione sportiva direttantistica Energy Club con la collaborazione del comitato regionale Marche Mivas è possibile prenotare sia tramite email che contattando il numero di telefono che vedete eccolo qua in sovraimpressione e per l'informazione è tutto il nostro telegiornale termina qui ma l'appuntamento come sempre per domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio e Giornali grazie per la vostra attenzione arrivederci grazie per la vostra attenzione